La forte adesione dei lavoratori servirà come biglietto da visita alla prossima riunione sindacale nazionale dove con molta probabilità governo e ferrovie riproporranno tagli al servizio di traghettamento alla continuità territoriale. Così l'orsa navigazione commenta il risultato dello sciopero nazionale di ieri, una protesta che ha visto una massiccia partecipazione in riva allo stretto dove nel settore della navigazione il dato definitivo dell'adesione si fissa al 90%. Navi tutte ferme, ieri garantito unicamente il servizio essenziale obbligatorio, soppressi in mattinata per la protesta gli espressi 1959, 1956, C728 e 723 a traghettare solo i treni garantiti con equipaggio scioperante trattenuto a bordo. Nonostante la spaccatura sindacale, conseguente ai tavoli di trattativa separati richiesti a CGL e Cisle Will, spiegano i vertici Orsa, la base dei lavoratori marittimi ha consegnato al sindacato un forte strumento di trattativa che i rappresentanti dell'Orsa sapranno far valere ai livelli nazionali.